Buon sabato e ben ritrovati ad una nuova edizione del PrimaTG. La campagna di vaccinazione anti-covid è la priorità del Paese, dichiara il Ministro della Salute Roberto Speranza in occasione della vista ai carabinieri dei NAS di Latina. Questa mattina ho ringraziato i carabinieri del Nucleo Tutela della Salute che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. La campagna vaccinale aggiunge la priorità del Paese. Siamo a 250.000 iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo possibile per arrivare a mezzo milione. Lavorando Uniti ce la faremo. Secondo il Commissario nazionale per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo in visita al Lab di Messina invece la prossima settimana arriveranno oltre un milione di dosi di Pfizer, oltre 500.000 dosi di Moderna e oltre 1.300.000 AstraZeneca e questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio a flusso di dosi che consenta di utilizzare a pieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparità infatti tra le regioni. Oggi abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento. Abbiamo superato ottime percentuali, l'altro ieri 245.000. Sono dati da consolidare, raddoppiare infatti le vaccinazioni ad esempio in Sicilia per arrivare intorno a 50.000 dosi al giorno con nuovi hub e nuovi punti di vaccinazione attuando una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare vaccinare anche nelle zone più impervie, oltre grandi hub nelle città come Messina, conclude. Il bollettino del Ministero della Salute in Italia registra oggi 23.839 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 357.154 tamponi processati per un tasso di positività al 6,7%. I decessi sono 380.457 invece nella giornata di ieri per un totale da inizio pandemia di 107.636. Ad oggi in Italia ci sono attualmente positivi 571.878 persone, 5.167 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia sono invece 2.832.939 guariti e dimessi con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità. Aumentano anche le terapie intensive di 7 unità e ricoveri ordinari di 149. Ma ascoltiamo il punto della situazione della cabina di regia con Gianni Rezza. Questa settimana in Italia assistiamo ad un lieve miglioramento della situazione epidemiologica con un RT che scende a 1.08, la scorsa settimana era intorno a 1.16 e l'incidenza che va al di sotto del 250, intorno a 240% rimane però decisamente elevata. Per quanto riguarda il tasso di occupazione di area medica e dei posti di terapia intensiva purtroppo invece abbiamo un aumento dovuto al fatto che nelle scorse settimane si sono accumulati molti casi di Covid-19. Infatti il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è intorno al 39%, quindi più elevato rispetto alla scorsa settimana. Data la situazione bisogna continuare a mantenere le misure di prevenzione e controllo e soprattutto accelerare la campagna vaccinale per immunizzare quante più persone possibile. Consueto bollettino Covid anche per quanto riguarda oggi la campagna a cura dell'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 2.209, i cui asintomatici 1.516 e sintomatici 693. I tamponi molecolari del giorno sono 20.061, antigenici 4.041. I deceduti sono invece 31, 22 nelle ultime 48 ore, 9 in precedenza ma registrati soltanto ieri, per un totale di 5.189. I guariti sono invece 2.328, per un totale di 229.146. Parliamo anche, come di consueto, del report. Dei posti letto su base regionale e posti letto di terapia intensiva disponibili sono sempre 656, occupati 168. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, occupati 1.594, tra posti letto Covid e offerta privata. A cura dell'unità di crisi regionale si comunicano anche i dati delle vaccinazioni in campagna, aggiornati ad oggi. Complessivamente la somministrazione della prima dose ha riguardato 523.269 cittadini. Con la seconda dose, invece, sono stati vaccinati 237.577 campani, il totale quindi di 760.846. Si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati, quindi varia in relazione alle adesioni ricevute, anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni, potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all'aumento delle adesioni. Un'allarma importante è quello che al contempo divulga la regione campagna per tutti i cittadini, attenzionando alcune tra le fake news che stanno girando in questo periodo, soprattutto attraverso le chat e i sistemi di messaggistica degli smartphone. Le stesse riguardano infatti informazioni più che false proprio sulla campagna di vaccinazione. Per evitare confusione e errori, la regione campagna invita tutti a verificare sempre ogni notizia, consultando il sito e i canali ufficiali della regione e dell'unità di crisi, che vengono costantemente aggiornati con ulteriori comunicati e bollettivi aggiuntivi quotidiani proprio sui vaccini e sulle altre iniziative di prevenzione e contrasto all'epidemia Covid. Intanto è partita nella giornata di oggi la vaccinazione contro il Covid-19 dei pazienti fragili all'ospedale Cardarelli di Napoli. Nella tendo struttura alle spalle del pronto soccorso, già usata per le dosi ai sanitari dell'ospedale, vengono vaccinati pazienti con elevata fragilità in carico alle unità operative, ai centri di riferimento dell'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, che quindi non hanno avuto bisogno di prenotarsi o di chiedere ai propri medici di essere inseriti in piattaforma, visto che sono già seguiti dall'ospedale. Ad occuparsi dell'intero percorso il personale del Cardarelli, che convoca i pazienti in base ai criteri anagrafici a criteri di maggiore rischio in caso di contagio proprio della patologia in questione. Un programma in linea con il piano vaccinale messo in campo dalla regione Campania e con la forte connotazione assistenziale dell'azienda ospedaliera Partenopea sul piano della cura dei pazienti fragili e con cronicità. Gli stessi pazienti fragili, dichiara il direttore generale del Cardarelli Giuseppe Longo, hanno bisogno di un percorso specifico, adeguatamente monitorato dai nostri medici, che sono poi gli stessi che nel quotidiano seguono l'evolversi delle patologie. Proprio per questo conoscono molto bene i pazienti, il loro stato di salute al momento della vaccinazione e tutte le terapie che stanno seguendo. Si indaga nel napoletano, infatti cambiamo argomento, tra Marano di Napoli e Villa Ricca, dove sono stati ritrovati di strada due cadaveri, in circostanze ancora da chiarire. Il corpo di un uomo senza vite è stato ritrovato vicino ad un'automobile dopo un impatto contro un muro. Alla distanza di una ventina di metri, un secondo cadavere di un altro uomo, probabilmente caduto da uno scooter, per lo stesso impatto. Sul selciato sono stati ritrovati intanto una pistola e un orologio Rolex. I carabinieri di Napoli non escludono al momento alcuna pista, anche se sembra trattarsi di una rapina finita tragicamente. Weekend di annunci nella città di Avellino. In una diretta social molto particolare, infatti, il sindaco Gianluca Festa ha svelato, con tanto di attese e rulli di tamburi, il nome dell'archistar che curerà il progetto della dogana. Si tratta di Massimiliano Fuxas, architetto e designer italiano. Dirige lo studio Fuxas, con sede a Roma, Parigi e Shenzhen. È stato inoltre visiting professor presso la Scuola Speciale d'Architettura di Parigi, l'Accademia di Belle Arti di Vienna, Stoccarda e New York. Ma ascoltiamo proprio le parole ricche di soddisfazione del sindaco Festa. Preparatevi, allacciate le cinture. Sto per svelare il grande nome. Silenzio, massima attenzione. Rullino i tamburi. Suonino le trombe. A me gli occhi. Cara città di Avellino. Cara comunità avellinese. Il nome dell'archistar che progetterà la nostra dogana è udite, udite, Massimiliano Fuxas. Massimiliano Fuxas. Massimiliano Fuxas. Straordinario. Un nome incredibile. Fino a qualche tempo fa, solo immaginare che Avellino potesse ospitare un'opera d'arte di questo straordinario, eccellente artista internazionale, sembrava un sogno. Oggi è diventato realtà. La nostra dogana, la nostra dogana, uno dei simboli della nostra città, porterà la firma del grandissimo Massimiliano Fuxas. Questa era una delle sorprese che avevo annunciato alla città che, con grande piacere e orgoglio, governo, insieme a una grandissima squadra, impareggiabile, che ringrazio per il sostegno che non mi fa mai mancare. Massimiliano Fuxas. Questo è il regalo che faccio di cuore alla mia città. Grazie. Ci vediamo alla prossima diretta. Buona serata. Secondo giorno di difficoltà ad Eboli. Qui unico caso in Campania, infatti, gli operatori mercatali, legittimati dall'ordinanza 11 del 25 marzo della Regione, sono stati verbalizzati per ben due giorni dalla Polizia Municipale. Ogni verbale ammonta a 400 euro, 18 soltanto elevati sabato e 4 anche venerdì. A tutela degli operatori mercatali, l'Anva Confesercenti, che infatti ricorrerà in autotutela al comando di Polizia Municipale del Comune di Eboli. In caso di esito negativo, sarà inoltrato il ricorso al prefetto. Ascoltiamo proprio le parole dei protagonisti. Allora, questa mattina stiamo qui al mercato ad Eboli. Ancora una volta i vigili urbani, la Polizia Municipale, sta facendo contravenzioni agli operatori ambulanti. Sono contravenzioni contro legge. Tra le altre cose, si stanno dannando la zappa sui piedi. Ci contestano il fatto che loro non hanno applicato il piano di sicurezza. Assurdo. Mentre le attività sono in difficoltà, loro pensano di elevare verbali da 400 euro. Noi ricontesteremo la categoria ben rappresentata. L'Anva Confesercenti è presente a tutti i livelli. Come Anva, come Confesercenti, siamo qui con i nostri avvocati. Non faremo passare questa linea dell'amministrazione. Era una notizia attesa da ben 17 anni. Sono iniziati al cimitero di Somma Vesuviana i lavori di recupero di un'importante opera, quale la cappella sepolcrare del Santo Rosario. Il progetto prevede la realizzazione di loculi di due distinte capacità, ben 145 di tipo 1 con 6 cassetti di zinco ed altri 173 loculi di tipo 2 con 4 cassetti. Dunque, si tratta della realizzazione di ben 318 loculi nuovi. Ascoltiamo le parole dell'assessore Sergio Davino. Un'altra risposta dell'amministrazione di Sarno è questa della ristrutturazione della congrega del Santo Rosario. Dopo tanti anni di attesa, ecco iniziati i lavori per il compimento di questa grande e importante opera al cimitero di Somma Vesuviana. Consueto bollettino Covid mattutino del sabato dall'Asi di terra di lavoro sui positivi Covid a Caserte nella provincia delle ultime 24 ore. Si registrano 324 nuovi casi su 2.351 tamponi processati per un tasso di incidenza pari al 13,78%. I guariti sono invece 246 positivi attuali e aumentano di 71 unità. I decessi registrati sono 7 nelle ultime 24 ore. I comuni con il maggior numero di attualmente positivi sono Caserta con 607, Aversa con 313, Marcianise con 491 e Maddaloni con 526. Il sindaco di Caserta, l'avvocato Carlo Marino, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul momento della sua cittadina tra Domenica delle Palme, il programma vaccinale e la pandemia. Ascoltiamo un estratto. Domani è Domenica delle Palme. Intanto auguri. Auguri a noi tutti, ai casertani. È una Pasqua particolare, una Domenica delle Palme particolare perché c'è ancora una pandemia in città, c'è ancora tanta sofferenza, abbiamo tante persone ancora che sono in terapia intensiva, ci sono tante famiglie che hanno sofferto perché non hanno più i loro cari. Sappiamo tutti che è un momento difficile per il nostro Paese e per la nostra comunità, però è anche un momento importante perché le vaccinazioni continuano tutti i giorni, perché il nostro centro vaccinale è il migliore della campagna, perché a Caserta abbiamo i vaccini che si stanno facendo e siamo la città dove si fanno più vaccini in tutta la campagna. Quindi c'è un dato positivo, c'è una percentuale, abbiamo più di 600 positivi in città ancora, e quindi ci deve essere tanta tanta attenzione. Siamo più fortunati degli altri perché sostanzialmente abbiamo, o più capacità degli altri, come la vogliamo dire, perché abbiamo una media dei nostri positivi al di sotto di quella regionale, molto migliora di tante città sia della provincia di Caserta ma sia della regione campagna. Però proprio perché abbiamo dei dati buoni dobbiamo continuare sulla nostra attenzione, sul nostro buonsenso, sulla nostra responsabilità, sul nostro voler salvare la vita dei nostri cari, sul voler stare attenti con evitare assembramenti, evitare tenere ben conto del distanziamento sociale, regole igienico-sanitarie, in mascherina, sempre e ovunque, mascherina. In tutto questo, prima all'inizio ho detto tanti auguri, tanti auguri di una buona Domenica delle Palme e vorrei ascoltare la parola della comunità episcopale italiana, vorrei tenere conto della parola del nostro Padre Vescovo, il quale ci ha rappresentato che questa è una domenica dove non si devono benedire le palme e si deve invece evitare in tutti i modi contatti, contaminazioni. Non acquistate da ambulanti strada o da persone che vogliono vendervi il ramoscello d'olivo. In questo momento dobbiamo tener conto nel nostro cuore della nostra benedizione. Abbiamo tante forme per trasferire ai nostri cari l'affetto che trasferisce un ramoscello d'olivo, il segno di pace, il segno di stare insieme, il segno di costruire il futuro della nostra terra. Mi raccomando. Sabato di paura con una scossa di terremoto nel mare Adriatico avvertita alle 14.47 in modo distinto anche in Campania e nella provincia di Caserta. In città l'amministrazione comunale con un messaggio ha confermato che la scossa sia stata avvertita anche in città indicando proprio l'orario e l'epicentro, quindi il mare Adriatico con magnitudo 5.6. Come si legge nel messaggio sono state molteplici le segnalazioni giunte al centralino della Polizia Municipale ma non si evidenzia nessun danno a cose o persone. Dopo la prima scossa ci sono state nove repliche in un'ora tutte nella stessa zona dell'Adriatico centrale. Secondo i dati tra le 14.47 e le 16.05 ci sono state tre scosse di magnitudo superiore al 4, 4 di magnitudo superiore al 3 e 3 di magnitudo superiore al 2. Il sismo è stato avvertito nella Dalmazia centrale, nelle città di Splita, Spalato, Trojir e nell'isola di Kfar. Concludiamo come sempre con lo sport, il calcio e il Napoli. Marek Amsic e Giorginio, due pedine fondamentali del Napoli che fu di Sarri e che sfiorò lo scudetto tre anni fa. Due pezzi di cuore dei tifosi azzurri che difficilmente dimenticheranno quel ciclo fantastico che portò la squadra a giocarsi lo scudetto fino alla penultima giornata contro la Juventus. I due centrocampisti sono stati protagonisti di un'intervista doppia durante una trasmissione condotta dal comico Peppe Iodice. La prima domanda è stata emblematica. Quanto ti manca Napoli? E Damsic, senza pensarci, ha risposto troppo. Giorginio gli fa eco non ci sono parole per descriverlo. Mi manca a chi non manca. Qui a Londra fa freddissimo. Cos'è il sole? Marek parla poi dell'esperienza in Cina. È sempre un'avventura non è stato facile però ne valsa la pena. I due centrocampisti poi danno luogo a un simpatico duetto sul tema calci di rigore. Giorginio risponde a Napoli lì tirava sempre Marek per rispetto per l'anzianità e per essere il capitano. Però se non voleva tirare io sicuramente ero pronto. Amsic poi ribatte però lui li tira molto meglio. I due infine si sono espressi sulle possibilità che Gattuso e suo hanno di raggiungere la Champions League. Giorginio è ottimista certo che può arrivare in Champions. Amsic speriamo facciamo tutti il tipo per lui. Sono convinto di sì. Tutti si ricorderanno però della foto con Gattuso che mi gridava in testa. Penso sia un bravissimo allenatore e i ragazzi parlano molto bene di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato e che Gattuso si possa giocare la Champions con il Napoli. Il collegamento poi si conclude con i due che cantano persino un giorno all'improvviso. Era questa la nostra ultima notizia vi lascio con i nostri programmi in prima serata infatti alle 21.30 il consueto viaggio in musica di Pareido 91 appuntamento invece a domani mattina ore 6.55 rigorosamente in diretta con la nostra rassegna stampa. Buon sabato e buona serata. Grazie Asociazione